Ciao, mio nome è Stefano e ho lavorato per molti anni come animatore 3D. Con il mio amico Alberto, che anche piace effetti visuali, abbiamo deciso di iniziare questo canale YouTube. E per questo abbiamo chiesto Blender come il nostro principale software 3D. Questo è il nostro primo video tutorial e speriamo che lo divertisciate. In questo tutorial vi darò qualche informazione su come abbiamo fatto il nostro video U4BotCat. L'idea era di fare un piccolo tributo a uno dei cartoni più bellissimi. Ricordate questo? E' così bello! Iniziamo a creare un elevatore sci-fi che avviene da una porta di trap in l'interno. Per fare questo, come puoi vedere, abbiamo modellato e animato tutti gli obiettivi in Blender. Per ottenere il miglior risultato, abbiamo fatto 4 foto dei pezzi di piazza che avranno un movimento nel piazza. E abbiamo usato le come texture, per riempire la reale e per dare l'illusione che vogliamo. Quindi, andiamo a vedere il processo di traccia in Blender. Questa è la nostra scena empty, dove puoi vedere che il candel cat è tirato fuori usando una strada. E qui siamo in Blender. Dal livello default, abbiamo chiesto il modulo di traccia di motion. Abbiamo aperto e cercato il nostro film. Abbiamo già convertito il film in una sequenza di JPEG. Nel viewport, pressa F per fare il video e poi il botone di prefettura per dire che il Blender si chiama tutti i film in memoria. In questo modo, sarà molto più facile e più rapida per riuscire la linea di tempo. Ora è l'ora di mettere i nostri marker. I marker sono piccoli cerchi di quadri che tentano di seguire un po' nella scena. Possiamo definire la loro size in Blender e molti altri parametri. Più più i marker, più meglio il risultato. Ma i marker devono essere in tutte le scene. In questo modo, Blender avrà molti dati su come il parallax sta cambiando nel film e potrà riconoscere il movimento di camera. In questo video, abbiamo scoperto di mettere alcuni stickers per aiutare il processo di traccia. e questo è stato un grande errore. Come potete vedere, abbiamo cercato di mettere tantissimi marker come possiamo, ma non tantissimi erano disponibili per un buon e completo processo di traccia. Successivamente, in qualche modo, abbiamo fatto. Ma abbiamo trovato una sola camera di 1. Questo non è male, ma può essere molto meglio. Un valore tra 0.1 e 0.4 è quello che devi provare in una buona traccia di traccia. I materiali sono molto semplici in questo progetto. Diffuse e Glossy shader mixati insieme e alcune texture che abbiamo ricevuto da CGTextures.com Finalmente, abbiamo filmato il nostro migliore actor in fronte di una scena verde. Questo sarà usato in compositore, mettendo il cat in una strada fronte, guardando la scena. E questo è il nostro final risultato. Allora, è tutto per ora. Questo è il nostro primo provo. Sei pazienti e, ovviamente, l'apologico per il mio inglese basico. Seguiteci sul nostro canale YouTube e lasciate sapere cosa pensate. Ho spero di gustare. Grazie a tutti. Ciao!